Siamo alle battute conclusive, Shabbaga è stata una tre giorni di manifestazioni culturali molto intense e di valore assoluto, la dimostrazione che si può fare sviluppo su questo territorio partendo dalla cultura, da eventi culturali che ci hanno sicuramente arricchito considerato il livello dei partecipanti, è stato anche un arricchimento grazie alla partecipazione di un vasto pubblico proveniente da ogni parte della regione e quindi un'esperienza molto bella sicuramente da ripetere. Grazie